Oggi il dodicesimo vuoto in campo per il Pescara è stato Pilon, perché l'abbiamo visto camminare da una parte all'altra della panchina, ha rischiato anche di essere allontanato dal direttore di gara, era un po' questa sera scatenato, mi passi questo termine. La partita che mi ha portato a questo, io la vivo la partita, quando sono ai bordi di campo la vivo direttamente, perciò sono coinvolto e chiaramente le mie emozioni non le nascondo, le dimostro, perché sono fatto così. Ho visto la squadra qualche volta in difficoltà, perciò mi arrabbiavo, ma devo dire che i ragazzi sono stati bravi perché su un campo così difficile, contro un'ottima squadra, che aveva sempre vinto in casa, non era facile venire qua e fare tre gol, vuol dire che siamo stati all'altezza della situazione. Ha guardato la classifica al novantunesimo oppure no? No, non la guardo mai perché noi se abbiamo fatto questi punti qui, perché non ci abbiamo mai pensato a dove siamo, quanti punti abbiamo, abbiamo sempre pensato a lavorare durante la settimana e a preparare la prossima partita. E questo così deve essere anche da qui in avanti, perché facendo così fai punti. Se tu pensi di essere diventato bravo perché sei il primo in classifica, sono tutte cose che poi ci penalizzano. È inutile però sottolineare Pilon che le due ultime vittorie sono state due vittorie significative, due vittorie ottenute tra l'altro con grande merito con il Benevento, che è probabilmente la squadra più forte del torneo, e poi con lo Spezia. C'è la consapevolezza che questa è una squadra che ha però dei valori e che ha una sostanza, ma soprattutto anche una grande forza in mezzo al campo? Diciamo che è una squadra che se la gioca con tutti. Quando siamo così, siamo rabbiosi, abbiamo sangue negli occhi e ce la giochiamo con tutti e dobbiamo continuare così. L'ultima cosa, Pilon, quanto ha pesato la lezione di Padova? Perché oggi abbiamo visto nel finale una squadra molto molto attenta, che non ha rischiato praticamente nulla, eccezione fatta per la punizione di Bartolomei. Sì, è vero, ci è servita molto la lezione di Padova, abbiamo lavorato su questo e devo dire che ultimamente stiamo facendo un po' meglio. Ultimissima battuta, all'inizio della stagione qualcuno mormorava che questo attacco del Pescara era un attacco che forse poteva avere qualche problema. Sei gol mancuso, tre monachello, i numeri dicono ben altro. Beh, vediamo la fine come sarà. Grazie, grazie.